Il mercatino giapponese di Roma, ospitato dal Blackout Rock Club ormai da diversi anni, è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati della cultura giapponese, per i cosplayers o semplicemente per i curiosi che vengono attratti da un mondo completamente diverso dal proprio e lontano molti chilometri. Il mercatino giapponese è infatti un modo per entrare a contatto con la cultura affascinante di un paese lontanissimo come il Giappone, che in questa sede viene celebrato con bancarelle di artigianato, fumetti, collezionismo, videogames e tanto altro. Girando per il mercatino non sarà difficile scorgere ragazzi e ragazze in cosplay, alle prese con la ricerca del capo d'abbigliamento perfetto per il proprio guardaroba alternativo. Oppure li si potrà trovare in fila per assaggiare uno dei particolari snack importati direttamente dal paese del sollevante e cucinati di fronte a loro. Il Blackout di Roma, più che un semplice mercatino fatto di bancarelle e compravendita di oggetti originali, ospita un vero e proprio punto di ritrovo per amici di vecchia data e nuove conoscenze, che si incontrano per parlare delle nuove serie televisive in circolazione, dell'ultimo anime visto in streaming o dei trucchi per sconfiggere il boss di un videogame. In passato ha ospitato eventi esclusivi come gare di cosplay, karaoke in giapponese o incontri con autori. Non perdete il prossimo appuntamento con il mercatino giapponese, rimanendo aggiornati sulla loro pagina Facebook. Grazie a tutti.